Il primo maggio medaglia di prosto verso il classificato è il primo Alessandro Rossetti, il secondo è il primo Il primo maggio medaglia di argento è il gruppo narrativo per abbociarne di Ussamandia Matteo Lotto e Paolo Comicino In quante stagione, anche la Nazione 2012 Paolo e Matteo Il primo è mondiale che è di fuori In questa edizione, in quattro stessi Oppure siamo in quattro campioni di Italia edizione Due vita e dodici della specialità Due sensabili e tre maschine E vi auguro E vi auguro in quattro stanzi Ciao bello E vi auguro in quattro stanzi Come è? Come è? Come è? Come è? Come è? Come è? Quando sei andato via o adesso non chiede chi sente che sono Ma non si è perfetto Come è? Che e vote Come è? Come è? Grandi! Voglio un risposamo! Grazie! Grazie! Ciao! Ciao! Oh, davvero! No, no, no! Penso che... Bene, chiaro di dire... Ah, dai già! Ah, dai già! E' proprio quello... E' un po' la grande! Guarda chi c'è! Perché non c'è? E' più o meno vecchia, con trentassi! Ma vai, se v'è che vanno di queste cose! E' già, lavoro! Non lo vanno a mangiare! Siamo tre di niente! Ciao! Ci vediamo! Buon appetito! Ciao! Ciao! Di nuovo signori! Ciao! Ciao! Grazie eh! Ah, perché volete da lui! Ma dopo allora eh! Ciao! Grazie! 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 Salute a tutti! Ciao! 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 Ebbene! Non potevano deludere i re di questa specialità Under 23, campioni del mondo dopo quella che è successo è successa la velare d'oro al Bacai, ora la conferma, la velare d'oro al Bacai, la città che ovviamente con una grande sottanza ha fatto qui sul riguardo, ragazzi prima di parlare del campionato corretico della storia, che è un ragione glorioso, un ragione che entrano medi annali, secondo voi... Sì, sicuramente è una bella esperienza, anche perché siamo partiti in Salerno, già vedendo bene, non puoi meglio, non è vero, ma purtroppo dopo aver finito ci ha seguito più piena, però purtroppo siamo ci via per i miei attori, e abbiamo fatto questo paura, ragazzi qual è il ricordo più bello? Se vi dico, campionato del mondo, medaglia d'oro, a voi cosa viene in mente? È il momento dell'arrivo, una cosa bellissima, è il campionato del mondo, quant'è amore che c'è? Ci si è pronto, la specialità, la specialità, l'amico, non so, allora ci troviamo. Poi il campionato italiano dovevate, per forza vincere, lo siete andati subito davanti? Sì, mi hanno scritto un romanzo, anche se ho visto natura, perché prendere l'opera per funzione mondiale è sempre difficile, poi l'onica ha parlato sempre, quindi, ragazzi, complimenti, a Milano. Occhio, iniziate a scriverlo, perché qui stanno arrivando, complimentissimi ragazzi, andiamo, vai. Un ringrazio a Livio, non te ne chiamo a Livio questa vittoria. Vabbè, anche a lui, anche a lui, esatto. Vabbè, un grande coraggio, un forte, andiamo a metterlo male, dai. E buona premiazione. Grazie ai bravi ragazzi, a Tarni World, a simpatizzare il nostro amico Livio. E' detto un amico, siamo un amico del doppio del 23 femminile, come vi annunciamo, anche qui sicuramente di grande interesse tecnico, alla presenza di equipaggi di grande spessore a livello internazionale. Non c'è il nostro carrello. Vediamo i proi, al subito della cautela di Sime, Sime in acqua 2 a condurre, Cecilia Appellati e Alessandra Patelli. Vediamo se sono in posto di grande, sono oltre 2,5 persone di luce su tutti gli avversari di questa vitale, la carottiera di Sime con Cecilia Appellati e Alessandra Patelli. Quante liberazioni anche qui, in questa notte, più oltre di una femminile. L'ultima per la seconda e terza posizione, per il titolo dell'impatto, che non ci sia, non è un pazzo per nessuno. Si sono in posto di grande, la conoscenza, vediamo, agli ulti di 250 metri. a un attacco a destello a tutti i pistolati, come un chiede di fare di sé. E la carottiera di Piocello, per la seconda e terza posizione, la conseglie di Anno, concessante la cosa conquista di questo titolo, a un chiede di Sime, a destello a una serena di Gino Bianco, a partire da Lodini, da Gautieri Pissolati, si sono poste, vediamo, la seconda posizione, con una metà di D'Argetto, giù da Lodini, la grande di Ero, l'impaggio della Prochisi, e vanno a una conquista di questo titolo. Grandissima soddisfazione, grande urlo per loro, c'è l'Alessandra, veramente il grande giù da Gautieri, io so andai per la metà di Bargetto, sette, vostro, e andiamo a tre, c'è c'è me. Le colessie, ma aspetteremo all'oficialità da parte gli giudici che arriva, e noi ci portiamo a botheringer, la prima azione dellaалina di versus, allora da prendere le collessie, facciamo Grazie.